ah beh in risposta al video che ho fatto ieri questo io in genere penso di essere abbastanza chiaro quando mi esprimo forse non sono abbastanza chiaro forse le persone non ascoltano abbastanza bene e secondo me questa opzione è la più accreditata perché tantissime volte faccio video penso di essere abbastanza chiaro ed esaustivo nelle mie spiegazioni in quello che dico e poi leggo i commenti di gente che non ha capito una minca di quello che ho detto e questo è il motivo per cui io ripeto le cose molto spesso durante il video infatti ogni tanto la gente mi dice non devi ripetere cose così tanto non devi bla 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 il motivo per cui le ripeto è questo perché ogni cazzo di volta che faccio un video dico le cose in maniera abbastanza chiara e la gente non capisce e secondo me anche quelli che dicono che non dovrei ripetere le cose non capiscono una minca quindi il motivo per cui ripeto le cose è che la gente non capisce è un po analfabeta funzionale cioè sa leggere scrivere ma non capisce quello che legge scrive o ascolta quindi quando io ho fatto questo video che mi pare si chiami se dorian non si fosse ritirato stavamo parlando di ronny colman avremmo ronny colman non stavo dicendo che dorian fosse meglio di ronny tant'è che ho parlato di fanta bodybuilding e in più stavo per dire una cosa che avrei dovuto censurare una bestemmia in sostanza in sostanza scusate in più nel video dico pure più volte se dorian non si fosse strappato il tricipite per quello dico fanta bodybuilding non sto dicendo che dorian col braccio ammincato senza bicipite tricipite sinistro avrebbe battuto ronny colman nella miglior condizione ronny colman anche perché se seguite il mio canale se guardate i miei video mi avrete sentito dire miliardi di volte che ronny colman nel 99 non nel 98 perché la gente ha questi disturbi mentali che pensa che ronny del 98 sia superiore a ronny del 99 ronny colman nel 99 sia il miglior bodybuilder di tutti i tempi nella storia dell'umanità e penso che mai verrà raggiunta quella condizione con al secondo posto non dico neanche dorian dico sempre philip nel 2011 quindi la gente che dice sei di parte non sei obiettivo quando parli dorian non è vero perché io sono molto obiettivo sono molto sincero quando dico le cose anche quando le faccio a prescindere che parli bodybuilding o di altre cose quindi il discorso era e lo spiego in termini molto lenti molto chiari se dorian non si fosse strappato il tricipite del 97 che è quello che ha portato dorian a ritirarsi anzi strappo del tendine del tricipite sinistro per maggiore chiarezza contando anche che se andate a guardare e mi pare di averci fatto anche un video dorian yates al german grand prix del 96 che secondo me è la sua miglior condizione forse addirittura superiore a quella del 93 al mister olimpia nonostante il bicipite sinistro strappato guardatevi la condizione dorian al german grand prix del 96 se dorian non si fosse strappato il tenere del ricipite nel 97 non avesse usato l'insulina non fosse finito in ospedale per emorragia interna se quella progressione di dorian nel 96 fosse continuata come sicuramente sarebbe successo nel 97 togliendo questi elementi di disturbo che appena detto quindi non si se non si fosse ritirato nel 97 e si fosse ripresentato nel 98 parlando di fanta bodybuilding io penso che avrebbe vinto anche il 98 in virtù di questa condizione che aveva nel 96 che sarebbe migliorata togliendo questi fattori di disturbo e qui sto puntando sulla ripetizione di quello che dico per farvi capire il concetto se si fosse ripresentato nel 98 contando anche che in genere per battere il campione il campione deve essere off molto off e non lo dico io lo dice la scienza lo dice la scienza del bodybuilding e la storia del bodybuilding contando anche il 97 dove dorian ha vinto senza un braccio però io penso che fosse una vittoria meritata in virtù della definizione della graniticità del pacchetto complessivo contando che il braccio era influente solo in una posa il front double bicep contando tutti questi fattori io penso che dorian avrebbe vinto anche nel 98 perché ronni per batterlo avrebbe dovuto devastarlo totalmente sotto ogni punto di vista anche la definizione e battere dorian nella definizione è difficile battere donne nella graniticità soprattutto della schiena è difficile per quanto ronni fosse superiore ma mettiamoci a che carroni aveva la ginecomastia nel 98 quindi contando tutti questi fattori e li ripeto di nuovo se doria non si fosse strappato il tendine del tricipite se non fosse stato costretto a essere ricovelato per l'emorragia interna se non avesse usato insulina e si fosse presentato con una condizione che sarebbe stata sicuramente una progressione di quella portata al german grand prix del 96 che era superiore a quella dell'olimpia del 96 ronni non avrebbe battuto questo era il concetto e da lì la domanda avremmo avuto lo stesso ronni se avessimo avuto dorian nel 98 e magari anche nel 99 perché dorian si è ritirato che aveva 35 anni e dorian non è mai stato off al mister olimpia non è mai stato un j cutler nel 2008 così off quello sto dicendo quindi so che ho ripetuto molti concetti ma penso che fossero che fosse opportuno ripeterli perché la gente non capisce quindi chi aveva già capito ha già capito anche perché qualcuno ha lasciato un commento è un iscritto intelligente ha scritto non è questo quello che ha detto qui so che c'è gente che capisce quello che dico però siccome mi piace essere chiaro ho dovuto fare questo video di precisazioni buona grazie a tutti